Loro mi hanno detto, vogliamo metterlo in Formula 1 con un team, why piece of paper? Gli hanno detto, no, non sono interessato, cioè o compriamo un team esistente e loro mi dicono, ma che team compreresti? Gli hanno detto, la Benetton. Chiamo Luciano e gli dico, Luciano, guarda, la Renault è disposta a comprare il team, tutto il team, sei disposta a vendere? Ti ho una risposta domani, mi hanno detto, sì, sì, troviamo un accordo sul economico e vendiamo. Per cui la Renault compra, la Benetton, io rientro nel mio vecchio ufficio, perché la Renault... Ha solo cambiato il nome del brand, sostanzialmente. L'ufficio, la mia scrivania, me l'avevano spostata, l'ho rimessa dove era prima e abbiamo iniziato l'avventura con la Renault.